marco eccoci qua ciao un rado che piacere averti che piacere oggi sono molto contento di provare un po raccontare la tua storia conoscere la tua visione musicale che è molto particolare perché per chi non ti conoscesse tu sei un musicista atipico perché hai fatto un percorso che molti non fanno molti non hanno il coraggio di fare dire la verità e poi ci andiamo su questo aspetto qui e ti sei specializzato in indipendenza avanzata ti sei specializzato nell'uso dei pedali dei multi pedali poi facciamo vedere un video che probabilmente avranno visto tutti perché un video che ha avuto 4 milioni e mezzo di visualizzazioni dove suoni su youtube dove suoni tutti questi pedali fighissimo quindi io già l'avevo visto da mo e hai avuto la collaborazione sei stato contattato da da terry bozzo in persona per andare a suonare con lui a drum channel anche qua poi ne parliamo insomma hai avuto dei feedback anche internazionali molto importanti però vorrei partire da questo marco io guardando la tua storia il tuo curriculum quello che hai fatto ho notato che tu all'inizio della tua carriera è studiato è studiato con lele melotti no allora io ti faccio sta domanda per partire ma tu all'inizio volevi farla questa cosa o è nel tuo percorso che hai deciso di cambiare di fare completamente un altro percorso se cos'è che ti ha fatto cos'è che ti ha portato in questa direzione secondo me è molto importante spiegare le scelte che hai fatto perché forse ci sono dei ragazzi qua fuori che hanno dei talenti da sviluppare come hai voluto fare tu meno mainstream se così vogliamo e quindi tu sei la persona più giusta per dire la tua esperienza a te come è stato il tuo inizio quando hai cominciato a suonare cosa volevi fare ah beh io ho cominciato a suonare la batteria perché ben anzitutto ti ringrazio tantissimo per avermi dato voce insomma per avermi invia invitato a questa ormai sei famoso da questo punto di vista quindi essere parte di questo gruppo è veramente un un piacere un onore e visti nomi che mi hanno preceduto e che probabilmente ancora riempiranno il palinzesto e io ho cominciato perché un mio parente in svizzera suonava la batteria gli avevano regalato una batteria per natale io mi chiesi ma si può regalare uno strumento musicale a natale come se gli stai regalando una bicicletta un computer non lo so lo strumento musicale ti deve deve avere a predisposizione cioè ti deve piacere devi volerlo ti deve venire da dentro insomma per farla breve io sono andato a trovare questo mio parente non sapevano quasi cosa fosse la batteria ma quando è arrivato il suo insegnante perché faceva lezioni a domicilio e hanno cominciato a suonare mi sembrava un'orchestra quella quella batteria lì rimasi folgorato avevo 14 anni lì decisi che avrei studiato seriamente batteria non così ma proprio seriamente e infatti di lì a poco convinsi i miei genitori di questa mia idea e iniziai subito a far prendere lezioni dai migliori insegnanti della zona che erano lello fazio poi bruno rizza e poi ho fatto un anno con lele melotti della zona di dove tu sei ora perché tu hai detto che eri in svizzera i parenti in svizzera in svizzera feci soltanto un viaggio per trovare questi parenti e sono stato lì una settimana sufficiente per essere toccato e bruciato dalla perché tu sei nella zona di roma frosinone quelle parti lì non c'è riusciti non è vicino cassino famoso per l'abbazia e niente lì ho cominciato a prendere lezioni e cercavo gli insegnanti più bravi e a suo tempo ce n'erano un paio veramente forti qui in zona e ho preso lezioni per quattro cinque anni con loro e poi ho fatto ripeto un anno con lele melotti perché lele melotti perché è un mito per me come lo è per tutti eh ogni disco che che compravo di musica pop italiana va e andavi a vedere eh nei credit se trovavi il suo nome lo vedevi in televisione lo vedevi a Sanremo lo vedevi ovunque era diventato per me un mito e quindi quando ci fu la possibilità di di frequentarlo con una serie cadenzata di lezioni a roma e insomma ho rotto il salvadanaio e sono andato a fare lì veramente ho capito che fino a qualche settimana prima ero convinto che qualcosa sapevo suonare andando lezioni da lui compresi che non sapevo per niente suonare la batteria perché quando ti confronti con il top almeno per un certo modo di intendere la batteria cioè tu ti rendi conto che sei piccolissimo però mi è servito perché mi ha consigliato di lavorare seriamente su alcuni aspetti del drumming e sapeva che io comunque ero eh investivo molto tempo in invenzioni in sperimentazioni però lui mi diceva sempre dedica anche una porzione di tempo alla batteria tradizionale cosa che faccio abitualmente e vado anche un po' a periodi dipende da cosa devo fare però ehm la mia qui ho la mia batteria speciale e qui ho la mia batteria anche se a doppia gas è vero eh è una batteria tradizionale senti facciamo vedere un attimo una cosa no così capiamo perché magari uno che 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 non sa di cosa stiamo parlando non si fa un'idea precisa di quello che tu fai quindi io adesso faccio vedere un pezzettino di una performance che tu hai fatto quella che dicevo all'inizio dove invito andare a vedere vabbè è una performance molto 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 famosa dove eh tu in pratica che cosa fai qui stai suonando con tutti questi pedali questo è una un video che hai fatto per la dv che lo faccio andare ok proprio qualche secondo tanto per capire di cosa stiamo parlando quando parliamo del tuo drumming del tuo set delle invenzioni delle cose che tu hai sviluppato nel tempo perché molte cose le hai create per adattarti allo stile che volevi tirare fuori da questo drumming quindi io immagino tu facciamo la storia tu avevi 18 19 20 anni andava in lezione dalle melotti e quindi magari stavi studiando delle cose ma tu eri già entrato in questo mondo qua dei pedali della creatività o ci sei entrato dopo no no già c'ero dentro già c'ero detto avevo una una predisposizione per l'uso degli altri inferiori e anche un proprio mi piaceva il pedale come meccanismo proprio come leva eh mi affascinava tantissimo e io quando potevo chiedevo consigli ai batteristi più esperti di me insomma ma come la fai questa cosa tu come affronteresti questa figura fammi vedere il movimento che fai solo che come tu ben sai il il pedale sia singolo che doppio a diciamo fino a qualche anno fa era un po in qualcosa così lasciato non dico al caso però la didattica ha coperto questa batteristica solo ultimamente sì diciamo che da quando c'è il web a disposizione soprattutto youtube no quindi diciamo gli ultimi quindici anni eh già prima c'era stata un'evoluzione io ti dico questo perché insomma sono un appassionato anche di musica metal ma i miei idoli erano quelli degli anni 80 90 quindi non stiamo parlando dei batteristi che oggi suonano la doppia cassa in colpi doppi cioè io ho visto vergil donati nel 96 97 in questi anni qua mi sembrava di aver visto un alieno se parliamo solo di doppia cassa perché poi per il resto non te lo dico neanche no quindi chiaramente poi il web ha contribuito a permettere a tutti di capire delle nuove tecniche poi sulle tecniche del pedale ci vorrei andare perché so che tu hai anche a parte che hai fatto un libro che me lo devi mandare perché sono curiosissimo perché tu hai fatto un libro molto interessante anzi parliamone adesso se ce l'hai lì a portata di mano magari da far vedere che tu hai fatto un libro tutto sulla tecnica del pedale su una tecnica se non sbaglio che hai che hai che creato tu o sulle varie tecniche che ti permettono questo è per i pedali singolo si questo è per il pedale singolo ok non dire come funziona questo libro qua intanto che ci siamo perché ne abbiamo io l'ho scoperto per caso che tu hai fatto questo lavoro sono curiosissimo allora questo è un po il libro che io avrei voluto tanto trovare nelle librerie specializzate insomma nei negozi strumenti musicali di editoria quando ho cominciato a interessarmi all'argomento perché io ero curioso di studiare cose nuove sul pedale e seguivo le poche rubriche sulle riviste specializzate sia italiane che straniere ma ogni rubrica non si soffermava sui dettagli cioè nel senso ti davano una figura in sedicesimi delle sestine del non so tanto per fare un esempio ma non ti dicevano affronta queste figure con questo movimento devi avere questo approccio mentale per affrontare occhio a questa insomma un po come si fa con le mani che conosciamo tantissime tecniche e allora ho cominciato a gettare giù appunti ormai da tanti anni e riempiendo insomma quadernoni di appunti esercizi di osservazioni e il mio libro che consta di quasi 100 pagine alla caratteristica di non farti vedere una singola nota se non dopo una trentina di pagine di spiegazioni su posizioni o non si vede si si vede poi si sono i movimenti grafici perché in pratica immagino che tu per suonare quello che suoni per dire se io adesso faccio a riandare un attimo la performance no così cerco di rubare qualcosa a quello che stai facendo se immagino che tu avrai un movimento differente un po rispetto al dpm al suono che vuole ottenere poi c'è questa cosa della cassa che tu usi a sinistra sì il suonone pazzesco marco vabbè del resto se ha fatto 4 milioni di visualizzazioni e mezzo c'è anche una ragione non è per caso torniamo un attimo alla tecnica del pedale quindi in pratica tu li suggerisci dei 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 sistemi alternativi o comunque chiarifichi in maniera definitiva se così va bene non è un termine magari che si può utilizzare così a cuore leggero però tutto tutto il movimento che puoi fare con il pedale singolo no che immagino che va bene anche uno per fare la doppia cassa fondamentalmente perché lavora anche con l'altro pedale sì sì infatti consiglio di fare gli esercizi col piede destro e col piede sinistro ma principalmente con il piede principale almeno questo libro qui poi ho scritto la seconda parte dedicata al doppio pedale che pubblicherò più in là perché il periodo è quello che è e non mi va di di pubblicarlo in un in un momento storico in cui non riusciamo nemmeno a mettere il naso fuori dalla porta con la nostra strumentazione quindi va bene fare tutta la promozione ma dove si trova questo libro perché interessato questo al momento si trova soltanto scrivendo mi in privato e lo spedisco io a chi è interessato quindi quindi dal tuo facebook che aspetta e che me l'ho salvato lo metto sotto così almeno se uno poi ti vuole contattare eccolo qua marco janetta drums oppure va beh se lì ci saranno contatti mail e quant'altro questo interessante sul discorso del pedale tra l'altro torniamo un attimo invece un po alla tua storia intesa come evoluzione musicale che hai avuto ma questa idea cioè hai avuto un riferimento sia stato qualche batterista che hai visto che ti ha ispirato nel creare questa cosa oppure detto ma se facessi sta roba qua cioè per dire l'idea di togliere la cassa e di metterla lateralmente con una cosa che ti sei brevettato per altro tu e che poi è stata rifata da da dv come te è venuta allora tutto molto già un passo dopo passo l'ispirazione più grande ovviamente per me è stata terriborzio perché io quando ho visto il video solo drums 1500 anni fa sono rimasto veramente folgorato era un periodo in cui giravano un po tutti i vhs dci ma quando ho visto questo qui è veramente rimasi scioccato e sebbene ero al mi trovassi agli inizi dello studio degli studi della batteria io mi dissi insomma che avrei voluto con i miei mezzi fare percorrere un po quella strada questa batteria intesa in senso diciamo solistico ma non esibizionista non nel senso esibizionista del termine cioè sono da solo perché voglio spararmi le cose ma proprio per per valorizzare il potere evocativo del tamburo così come lo sentivo in bozio e e quindi lui era il mio riferimento e l'ho ascoltato e sentito studiato tantissimo veramente tantissimo però parallelamente avevo le mie idee ero affascinato dalla combinazione anche se all'inizio non sapevo ancora come la combinazione di quelle che io considero due facce della stessa medaglia del ritmo cioè la parte del rigore ritmico e quindi la la batteria che scandisce un po un po la parte metronomica del tempo e poi l'altra faccia della medaglia e e l'atmosfera i colori che solitamente in un ensamble sono dati dalla dalle percussioni e mi sarebbe piaciuto creare uno stile dove potessi in qualche modo unire queste due facce ma in un unico stile batteristico e quindi ho cominciato a tutto sto mondo di percussioni batteria di campane no cioè tu all'inizio è proprio detto io quando ho sentito la batteria ho sentito un'orchestra no ma era una batteria normalissima no però è proprio una percezione perché quando si parla ad esempio di terri bozio di cui anch'io sono un grande stimatore molti l'hanno criticato perché poi lui ha fatto questa scelta di andare in solo drumming di creare questo mega kit che chi non sa l'evoluzione che ha avuto critica senza cioè dice ma che palle no sai sentire uno che suona da solo perché devi che a parte che devi capire cosa c'è dietro ma non solo se sei batterista c'è la ricerca che quell'artista fa no però bisogna che pensare che zappa già nell'ottanta aveva già fatto tutto quello che si poteva fare cioè li poteva smettere dire vabbè ragazzi io comunque il mio solco nella storia della batteria l'ho già fatto no quindi da lì in poi è partita tutta una sua evoluzione creativa però visto che lo citi vorrei anche che mi raccontasse poi mi dai anche un tuo parere ci sono anche diverse domande di persone che sanno già che hai incontrato e suonato terri bozio io ora faccio vedere un piccolo estrattino di tu e terri bozio che suonate insieme perché la storia è che poi magari se vuoi me la racconti un po meglio è che lui ti ha visto su youtube e detto ma chi è sto pazzo che suona la batteria ed eri tu e ti ha invitato con lui a suonare a drum channel ok anche qua faccio vedere proprio qualche secondo per capire il mondo però voglio dire non è una cosa di tutti i giorni che ti contatti il terri bozio della situazione che poi di terri bozio ce n'è uno com'è andata quella storia lì deve essere stata una figata incredibile ti invidiamo tutti porca miseria Marco ma allora io guarda ci pensavo ieri sera al fatto che avrei voluto che questa cosa che tu hai appena fatto vedere fosse successo un po' più in là nella vita non subito così cioè sono passati già sette anni da quel video sì sette anni da quel video avrei voluto che ne so che succedesse adesso come mai come mai perché ho più cose da dire o più ho un suono più bello grazie ai miei sponsor sono riuscito a migliorare tantissimo il mio suono la concezione l'orchestrazione sono meno diciamo se studi tutti i giorni una crescita si spera che ci debba essere ma tu sei sicuro che saresti diventato bravo come sei oggi senza aver avuto l'input no ovviamente no ovviamente no ovviamente no perché alla fine no sai quella cosa lì può averti dato uno spunto pazzesco quello era un periodo quello che hai fatto vedere tu era il 2009 e scusa il 2013 ma ero già stato con lui nel 2009 soltanto per una questione di proprio di di eh tecnica ma quei video non sono disponibili adesso in giro quindi ci sono dei video che testimoniano questa cosa ma avvenuta molti anni prima sì e eh e quello era un periodo in cui ero appena uscito diciamo avevo vinto due tre concorsi in Italia e dividevo un po' i professionisti tra chi eh mi supportava diciamo e chi diceva terribile e eh eh sì sì e ma ancora adesso è così naturalmente sì e beh lo dicono per bozio figurati eh quindi e e quindi serviva proprio una una sorta di timbro di certificazioni di qualità che almeno al momento io vedevo se chiudevo gli occhi poteva essere o Vinicola Iuda che non mi conosce o Terribozio eh i miei i miei due idoli incontrastati sono i poster qua dentro infatti e ehm e Terribozio eh ha deciso insomma di 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 investire di metterci la faccia eh nel momento in cui Terribozio dice che va bene anche se non va bene ma dice che va bene per me i commenti di tutto il resto del mondo possono anche essere negativi o non valere perché tanto il mio idolo di sempre cioè quello che ho studiato di più mi ha chiamato con lui non mi ha chiamato Peter Eskin perché io non l'ho mai studiato il jazz inteso in quella direzione cioè mi ha chiamato proprio quello che io ho studiato di più in vita mia e lui stesso un sogno che si avvera tra l'altro io immagino che eh ti dico questa cosa è successo questo che un giorno eh apro il social che a suo tempo si chiamava MySpace per i musicisti apro la mia pagina e trovo il messaggio in bacheca insomma dove Drum Channel io sapevo che c'era questo Drum Channel i primi anni insomma che diceva abbiamo visto questo video mettono il link eh uno dei primi video che ho postato su YouTube e dicono questo video eh lo ha visto anche Terry Pozio e ci piacerebbe eh fare una registrazione nella trasmissione The Art of Drumming che facciamo qui a Los Angeles ci piacerebbe averti come ospite eh a te ti è piaciuto tanto quello che fai per cui vediamo se riusciamo a organizzare io convintissimo che era uno scherzo di qualche burlone che ne so dire della zona che voleva sapeva che mi piaceva tanto Terry Pozio e quindi voleva inferire fortunatamente avevo un'email di un giornalista che scriveva per percussione il carissimo Mario Riggio che saluto che aveva il contatto di Terry Pozio perché l'aveva intervistato e quindi lui mi passò l'email io ho scritto a Terry Pozio e fu su orario permettendo in quindici minuti mi ha risposto e mi ha detto sì sì sono io ma non scrivermi a queste email scrivimi a queste email privata e e da lì è cominciato tutto e lì ho capito che era vera la cosa ma quello era un periodo in cui Terry Pozio era presentatore era la faccia di Drum Channel aveva cinquantanove anni suonava tantissimo e e suonava in maniera cioè ogni ogni volta che arrivava un ospite a Drum Channel lui lo intervistava e gemmavano insieme e ogni volta che lui premeva l'acceleratore su con il suo set gigantesco non ce n'era più per nessuno quindi lui mi diceva che dovevo suonare con lui io mi dicevo ma come faccio ad andare a suonare col mio idolo a Los Angeles registreranno tutto in diretta quello che suoni suoni quello che sbagli sbagli e senza rimanere congelato con le bacchette in mano quindi ho dovuto fare un training fisico ma mentale cioè specialmente mentale oltre che fisico e guardarmi in continuazione in che modo loro approcciavano alle gemme alle dirette per entrare un po' nell'atmosfera perché ho detto qua e rischiamo di fare 9000 chilometri cioè con gli stessi chilometri potrei andare sulla luna invece vado a Los Angeles a suonare e e sul momento più importante rischio che rimango gelato con le bacchette in mano fortunatamente non è andata così e ma anche perché Terry Bozzi è una persona che la sua grandezza è legata molto al fatto che ti metti a tuo agio quindi lui mi ha permesso con il suo atteggiamento di far fondo anche all'ultimo grammo di tecnica di espressività di capacità che io avevo proprio perché non te la mette in termini di sfida o adesso ti faccio sta cosa e ti mando fuori strada cioè è veramente fantastico sotto tutti i punti di vista io mi sento veramente onorato eh di 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 aver avuto modo di prendere questo treno che peraltro con lui è passato due volte perché io poi dopo la prima volta mi sono messo sotto a studiare anche con l'entusiasmo di 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 chi ti ha dato fiducia con l'entusiasmo che mi è stato instillato dal fatto di aver avuto la sua fiducia e e quattro anni dopo mi hanno richiamato e e abbiamo fatto il video che tu hai appena mandato adesso su quella groove song oriented esatto adesso hanno mandato solo un pezzettino perché chi vuole vederlo può andare a vedere non voglio neanche sfruttare le il copyright di altri canali youtube comunque stavo guardando un po' diverse su bozio mi pare che però hai risposto un po' a quasi tutte quelle che ho trovato che riguardano lui l'approccio cioè la persona anche c'è qua un ragazzo che dice massimiliano dice ho visitato la dv factory ho visto il tuo case vicino un certo thomas lang tra l'altro mi viene in mente una cosa mi viene in mente una cosa su thomas lang perché qualche tempo fa bazzicavo sul tuo facebook e ho visto che anche l'ang ha fatto che io stimo tantissimo ed è un altro batterista che spesso viene contestato io non capisco come mai che ha espresso delle parole molto belle nei tuoi confronti insomma dei feedback molto belli nei tuoi confronti so che voi vi siete conosciuti no se non sbaglio li alla dv che che cosa mi due parole su thomas lang per quello che tu hai vissuto con lui io e lui ci siamo incontrati dal vivo diverse volte siamo stati a cena a pranzo e ma la volta più bella è stata quando io stavo registrando stavo registrando un qualcosa alla drum channel ma non mi ricordo precisamente cosa e lui stava facendo un set fotografico nel un paio di studi più più in là e io sono andato a vedere insomma quindi stava lui con gli occhiali a specchio bello come il sole fotografa sulle scale che gli faceva no le foto e lui bellissimo e lui mi riconobbe e disse guarda andiamoci a prendere un caffè qua vicino e mi offrì un caffè e in maniera un po provocatoria mi chiese se io insomma suonavo pure la batteria normale e gli feci vedere un video che realizzai qualche anno fa per pubblicizzare un mio corso sul pedale singolo e doppio in una scuola romana dove facevo dei esercizi che uno dopo l'altro partivano da zero tecnica fino arrivare a cose che non so fare più no scherzo allora lui cominciò lui voleva fare un po l'avvocato del diavolo con quella domanda e cominciavo il primo si mise col suo iphone poi man mano che gli esercizi andavano avanti ok questo lo so fare questo già l'ho fatto questo l'ho inventato io tutto quanto poi esercizi cominciano a diventare veramente impegnativi allora a un certo punto vedevo che aumentava il volume dell'iphone poi se lo metteva più vicino arrivato a un certo punto in cui faccio un esercizio particolare con un pedale solo si gira e mi fa venerdì sera che fai io ho fatto sto qua da solo vado a mangiarmi un panino come al solito insomma ha fatto da una cena a casa mia con degli amici musicisti vieni a casa e spiegarmi come fai queste cose e quindi è andata proprio così andai a casa di Thomas Lang la sua bellissima villa con piscina c'era questa bellissima scena vegana che mi trovo i miei favori in quanto sono vegano anch'io ma è vegano Thomas Lang davvero la moglie la moglie la moglie per essere così muscoloso se lo mangia delle bistecche non so come fa vabbè chiusa parentesi insomma no e lui è come un toro il toro mangia solo erba quindi insomma ci siamo quasi e lui questa è stata veramente una un'esperienza rapidissima la durata di una sera e ma molto molto intensa perché io sono andato veramente nel cuore del suo quartier generale perché lui ok convenevoli ci mangiamo questo ti presento questa persona ma si vedeva che scalpitava a un certo punto ha fatto adesso andiamo sopra siamo andati nel suo studio dove registra tutti i suoi video almeno registrava tutti i suoi video nel suo studio e dove ha diverse batterie montate e per arrivarci siamo passati nel nel garage dove c'è il suo bel SUV ma sulle sulle pareti nella nel garage delle famiglie americane c'è la chiave inglese no tutti gli attrezzi e lui ci sono le batterie dv collectors che partono da dal dal tom da 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 due da fino alla gran cassa dal tom da da 34 alla cassa 52 e li vedi tutti su varie bacheche cioè noi comuni mortali prendiamo il 75 pezzi lui prende il set a 35 pezzi e e lì c'era quella marrone lì c'era quella nera lì c'era quella bianca già già il preludio era fantastico ma tu a quel momento in quel a quel punto tu eri già di v uno o no non ancora sì 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 ero già quindi voglio dire comunque anche tutti stavi sì no dico cioè eri già in quella famiglia lì perché bisogna che puoi dire che questa opportunità poi ti ha portato ad avere un contratto con loro che attenzione al di là del discorso puramente il marchio importante sappiamo che di buffa delle batterie pazzesche ma nel caso tuo specifico tu prima hai detto una cosa importante detto che i marchi mi hanno aiutato a esprimere la mia creatività perché tu per quello che usi per gli strumenti che usi dopo parliamo anche di quella cassa che usi a sinistra hai bisogno veramente che della gente si metta in moto per fare dei prodotti tagliati su di te perché tutti li sei auto costruiti in alcuni casi visto che sei anche un mezzo inventore come terri bozzi che ti fa gli attacchi comunque chiudiamo la parentesi tornami su thomas lang che sono curioso vai nello studio e andiamo andiamo nello studio e lui mi mette la batteria doppia cassa e dice ok sono le stesse cose che hai fatto nel video io comincio a suonare e lui si accascia a terra si inginocchi a terra ma non per per celebrare ma per toccare la muscolatura del polpaccio della caviglia della della gamba vedere a seconda delle figure che stavo seguendo quale muscolo io stavo mettendo in funzione non gli avrei venduto il libro è non ce l'avevo ancora e perché lui era era veramente sorpreso di come io riuscissi a fare quelle cose che per i suoi parametri erano delle cose che le si potevano fare ma irrigidendo parecchio insomma avendo un approccio un po' duro non andandoci così morbido ok rilassato e lui voleva conoscere questa cosa finita questa storia io e lui non ci siamo quasi sentiti e visti più quindi quando mi dissero che aveva rilasciato queste dichiarazioni sul fatto che 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 quando citava i batteristi più originali che avevano qualcosa da dire mi aveva insomma nominato in una rosa di batteristi che vanno per la maggiore che che sono superstar della batteria mondiale una soddisfazione una soddisfazione fantastica perché io e lui non abbiamo più avuto nessun tipo di rapporto da allora beh io ti auguro di ritrovarlo perché io non lo conosco personalmente ci siamo scambiati qualche mail perché insomma ho fatto ho fatto un video dove paravo di lui lui gentilissimo scritto per ringraziarmi cioè pensate no per dire però mi sembra io ho seguito tantissimi sui podcast i suoi video pur non essendo quello lo stile che io amo di più ascoltare però devo dire che è un'ispirazione pazzesca e poi se chiunque vada da una sua clinic veramente tu senti parlare un professore dell'università della batteria cioè si parla bene capisci tutto a un modo di fare tra l'altro abbiamo con un altro professore che marco volpe che l'ho sentito ieri e l'ho invitato a vedere questa diretta che dice una cosa molto bella dice la cosa più importante di marco è che non è solo bravissimo è unico ha cercato una sua via personale e nessuno fa quello che fa lui un saluto a tutti e due è questo poi il tema di quello che io volevo estrapolare un po vedi marco volpe nella sua saggezza di una frase aria sono ma volevo dire in un ora no però il punto è voglio farti un po di domande relativamente all'impegno allo sforzo che tu hai messo in questo tipo di linguaggio che chiaramente è un linguaggio molto di nicchia no molto di nicchia anche se ti ha portato chiaramente a fare delle cose importantissime con una grande visibilità però si sa il batterista in italia no se non hai un certo tipo di di skill di linguaggio allora quello che ti chiedo è sei contento a conti fatti della scelta che hai fatto se tornassi indietro rifaresti qualcosa terresti una porta aperta in una certa direzione piuttosto che un'altra o sei ancora giovanissimo per fare tutto non è che stiamo parlando di uno che a fine carriera ci mancherebbe però voglio dire se tu dovessi consigliare un ragazzo giovane che vuole intraprendere una strada come la tua quindi a quella del a me non me ne frega niente faccio quello che sento che mi fa stare bene sulla batteria cosa gli consiglieresti di fare che domanda è non avrei la non avrei la coscienza a posto se consigliassi a uno di fare una scelta del genere non posso consigliargliela io dovrebbero fare come ho fatto io cioè non chiedere permesso il consiglio a nessuno e farlo e basta perché solo così puoi essere determinato al cento per cento perché già se lo chiedi significa che non sei sicuro al cento per cento e quindi sarò il primo a dirti no allora non farlo ma se fai come ho fatto io che da un certo momento in poi si è disinteressato dei pareri delle critiche delle di ogni cioè è una strada in salita ma proprio una parete verticale così perché tu devi lavorare tantissimo sulle tue idee se ne hai e non è detto anche se ne hai che sono idee buone che possono convincere come ad esempio io ho avuto la fortuna di convincere degli interlocutori importantissimi che lavorano a livello mondiale e anche se stiamo parlando di una nicchia attenzione però la nicchia nel mondo non è poco è la nicchia in un mondo intero soprattutto oggi per quello scusa che ti interrompo un secondo per quello dico io vedo che il mondo della batteria sta cambiando tantissimo no e poi vedere come ci sono dei batteristi che oggi non è non è secondo me l'unica strada da seguire certo in italia deve essere preparato a fare tutto come giustamente tu dicevi all'inizio devi avere comunque le basi e poi estrapolare il tuo linguaggio è anche vero che per andare in un territorio come il tuo che richiede anni di sangue sudore in una direzione che non sai dove ti porterà se ti darà il guadagni se sarà capita da qualcuno se sarà accettato sarà criticata voglio dire deve avere anche una fortissima determinazione però vedo guardando quello che succede nel web che ci sono sempre più musicisti che magari sono un po al di fuori dagli schemi e che proprio magari grazie a questo modo di suonare un po al di fuori riescono a crearsi una nicchia costruire su un pubblico piccolo ma a livello mondiale e quindi poi proprio piccolo non è ecco questo magari una cosa che 20 anni fa non potevi fare forse neanche 10 oggi mi sembra di vedere sempre di più dei batteristi che emergono anche grazie alla alla novità noi capito non essere come nessuno scusami volevo dirlo perché questo è un po il tema che che mi ha affascinato di te no il fatto che tu hai sempre lottato come io non so quanti avrebbero avuto la tua determinazione di fare un percorso di questo tipo senza avere dei modelli predefiniti senza voler assomigliare perché tu dici a me mi ha ispirato bozio ma tu non suoni nulla di quello cioè sei lontanissimo da quel mondo tutto sommato se non come concetto artistico dico bene ma infatti lui me l'ha detta questa cosa proprio così come l'hai detta tu hai detto si vede che tu vieni dalla mia scuola ma è evidente che non mi hai copiato in maniera pedisse qua mai hai sviluppato un tuo modo che io ritengo originale poi dettomi da lui che è originale insomma vabbè e la cosa difficile caro corrado è che all'inizio di un percorso del genere tu devi decidere quanto sei disposto a rischiare e e quanto sei disposto a esporti alla sassaiola ok uno non dovrebbe curarsi troppo del 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 parere della gente quando vuoi sviluppare una tua idea però in in pillole in diciamo con le dovute proporzioni è come se fosse un una sorta di bullismo una pressione di bullismo quello di essere caso mai additato come un pagliaccio della batteria o come uno che non sa suonare la vera batteria la batteria vera è un'altra cioè non è facile filtrare queste critiche e concentrarsi veramente in maniera seria sulla tua sul tuo progetto che è quello che ho fatto io perché comunque ero talmente convinto di quello che stavo facendo che ho detto per me la la musica è un gioco e io devo divertirmi non devo essere già che non ho manco cominciato non so ancora andare a tempo e già devo fare per forza questo per forza questo per forza questo cioè dov'è il divertimento se io devo veramente coprire tutte le le i passi che già altri hanno fatto in maniera molto migliore di me e lo faranno sempre meglio di me quindi ok quel poco che farò lo farò come dico io e sarà differente ed è difficile lavorare sulle proprie idee ed è difficile lavorare su qualcosa di differente perché a me diverse volte è capitato di accorgermi che stavo colpendo il il piatto come quello lì il rullante come quell'altro che il suono stava cominciando a diventare e il fraseggio anche come quell'altro batterista e in quel momento dovevi lavorare per cancellare le tracce perché dovevi conservare una tua autenticità ok e quindi anno dopo anno cercavo sempre di filtrare le cose che potessero farmi diciamo assomigliare a qualcun altro e per quanto belle le tiravo cioè le escludevo facendo questo lavoro per anni per anni per anni alla fine ti rimane un qualcosa che non ha nessun altro da un lato sai che nessuno ti omaggerà mai perché non potrà mai suonare le tue ritmi che non ha lo strumento per farlo ma dall'altro sei contento perché non c'è nessun altro come te cioè anche quella cosa la farei soltanto tu e soltanto tua e questa cosa qua poi assieme a tante altre cose che mi sono successe un po contribuiscono a ripagarti di tanti sforzi che hai fatto ma attenzione io parlo di sforzi e di sacrifici ma in realtà per me è sempre stata una gioia fare tutto quello che ho fatto perché è un percorso spontaneo è vero non ho fatto tante cose che consigliavano di fare tutti i batteristi che hai intervistato fino all'altro ieri tante cose non le ho fatte ma perché mi sono dedicato ad altro altre cose che ho considerato più importanti per quello che volevo fare io certo 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 c'è una domanda carina eri chiede chi vorresti incontrare ora per implementare ulteriormente c'è qualcuno oggi che ti affascina che potrebbe farti fare un altro bozio step sì probabilmente l'abbiamo anche nominato prima ci sono due batteristi che io adesso a parte i soliti che cerco tantissimo sul web perché mi ispirano tantissimo e sono jojo meyer che io ritengo geniale oltre ogni misura e mi emoziona tantissimo ascoltarlo e l'altro è Thomas Lange perché Thomas Lange per me per la mia concezione lui ha avuto un'evoluzione mentre tanti altri a quell'età un po il meglio già l'hanno detto tuttarsi mi sbaglio è ma tanti hanno già avuto il fuoco invece lui sembra che una che è una bella una buona bottiglia di vino che sembra migliorare col tempo mi piace tantissimo io lo considero un po il don famularo del futuro perché a me mi motiva tantissimo vederlo in azione leggere le sue interviste comprendere i suoi concetti io mi mi rivedo e mi risento in tante cose che dice cioè lui dice io voglio suonare le cose che non suona nessuno io è quello che ho sempre fatto senza dirlo mai a nessuno questo fatto senza rilasciarlo mai nessuna intervista mi piacerebbe suonare quello che non fa nessuno anche se poi la mia è una è una conseguenza legata al tipo di strada che ho preso è normale che non farò mai niente che hanno fatto gli altri se non filtrando indirettamente determinate determinati concetti ma perché ho uno strumento che già quando mi ci siedo sopra mi ispirerà cose diverse rispetto a quando mi siedo sul mio pet sul mio set tradizionale e ovvio che io per stare bene devo sedermi su questo set qui perché questo che ho voluto tantissimo negli anni costruirlo o farlo così perché a largo vediamo se riusciamo a far vedere un po poi cerchiamo magari delle foto delle immagini perché tu usi un setup molto atipico l'abbiamo visto prima usi questa cassa a sinistra adesso volevo andare anche sulla strumentazione tornare un attimo sul discorso dei pedali perché ci sono delle domande però per chiudere la domanda che avevo fatto inizialmente leggo quella di giovanni per dire che può essere un input cosa consigli chiediamolo a marco non a me cosa consiglia chi vorrebbe diventare un professionista quindi io dico un tuo allievo che percorso li fai fare cioè quello che tu li fai fare quello che ti fare ti faceva fare le le melotti li fai fare questo tipo di ragionamento li lasci aperto uno spazio creativo cerchi di imporre la tua visione che però sai che è rischiosa come ti approcci con i ragazzi no cerco di avere un sistema più neutro possibile cioè quelli che vengono qui ovviamente studiano sul set tradizionale e hanno costantemente di fronte il set grande super accessoriato ogni tanto mi chiedono di fargli ascoltare qualcosa e ne rimangono sicuramente affascinati ma niente di quello che io faccio lì sopra poi porto nella didattica normale anche perché quando un ragazzo è all'inizio oppure ha anche determinate abilità perché ha fatto già un percorso con altri insegnanti casomai viene da me per migliorare la tecnica del pedale la coordinazione indipendenza ma non per sviluppare un qualcosa di completamente folle anche perché veramente quello che ho fatto io che per me la normalità in realtà per tanti altri è un sacrificio esagerato nel senso quello di lavorare su qualcosa di originale su idee su idee personali è un qualcosa che intimidisce tantissimo e però per esempio sono uno di quelli è per dire io devo avere il libro il sistema faccio fatica a creare avere una visione cioè per me è molto stimolante riuscire a fare qualcosa che uno ha fatto non riesco a uscire da questa cosa non so se ho mai inventato nulla nella vita che avete infatti è molto apprezzabile il fatto che tu hai sempre fatto questa ricerca perché va oltre la batteria quasi sta proprio parlando di un approccio artistico no questo è che voglio dire ma se sei un ragazzo vedi che ha delle skill veramente vicine al tuo pensiero che glieli metti tre o quattro pedali guarda non è mai in realtà non è quasi mai successo quasi mai quelli che hanno voluto seguire il mio percorso che ne so avuto quindi l'anno scorso un allievo da londra che voleva fare proprio queste cose ed è venuto qui dentro al mio studio non avevo mai avuto qui nel mio studio uno studente che partisse da londra e per venire qui e fare una giornata di studi sul mio concetto è una cosa che io scrissi un post su facebook dove insomma dicevo che per un giorno da un famularo per un giorno ecco mi sentivo da un famularo per un giorno e questo ragazzo era già un professionista ma era assolutamente affascinato dal mio approccio e voleva capire che cosa se c'era un comunque una matrice dietro a tutto questo questo apparente naturale approccio allo strumento se c'era comunque una regola da seguire un qualcosa e e io sono stato abbastanza generoso con lui nel senso che non non gli ho nascosto nulla e lui è andato via soddisfatto perché comunque aveva preso varie varie informazioni anche a livello meccanico come come costruire uno strumento cosa che ne so se hai un fabbro nelle due vicinanze diventaci amico oppure che ne so inventa di qualcosa e le cose te le sei te le sei create tu no nel tuo setup sì 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 per esempio parlami di questa cosa che mi ha incuriosito della cassa che tiene a sinistra perché quello è un tuo progetto che poi è stato sviluppato anche da dai tuoi sponsor mi dici un attimino come ti è venuta sta idea di perché tu sotto non usi la cassa in pratica tu la usi di lato non con una cassa senza fusto adesso la vado la vado a cercare se la trovo così facciamo vedere ecco qua si vede dalla foto aspetta che la metto faccio una condivisione dello schermo vedo che ce l'hai anche tu lì è quello che fa aspetta faccio vedere bene anche da qua ecco in pratica questa sarebbe la cassa che tu tieni sulla sinistra che misura è 20 22 20 20 che tiene sulla sinistra quindi quei piedi fai completamente delle altre cose e poi cos'hai tre charlie vedo quattro charlie dipende adesso c'è no 12 22 però poi ho degli stacks quindi il discorso charles sono poi si 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 amplificano ma lo concepisci lo concepisci il charles sono tradizionale tipo se tu devi fare c'è un'altra mia invenzione che è il charles sono abbraccio che è stato costruito dall'axis dall'axis quella famosa per i pedali non l'hai mai visto no io non lo so guarda io non lo so se adesso se tolgo le cuffie se si fa casino se si fa non lo so proviamo prova prova no perché questa la voglio vedere il charles sono abbraccio mi manca proprio e no l'audio l'audio non è buono allora si è sentito poco ho capito un po la parte sotto perché chiaramente il suono era molto compresso no se senti se sentito poco perché andato un po tutto in compressione tutto in distorsione però capì ho capito come funziona quindi sotto c'è di qualche video in giro ci mi dispiace il l'audio era era diciamo tarato per per parlare certo 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 è stata improvvisata come cosa però insomma è un è un charles sono che trasferisce il movimento dell'avambraccio direttamente all'apertura e la chiusura dei due piatti la axis vide questo mio progetto io sapevo che ci stavano lavorando però insomma chi chi viaggia un pochetto si accorge che le cose sono coperte da copyright da 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 diritti da brevetti oppure appartengono a chi le costruisce a chi a chi se le a chi se le accaparra e l'axis all'axis è piaciuto tanto però l'axis non l'ha messo nel ha realizzato i prototipi soltanto per i ragazzi portatori di handicap per quelli che non possono usare le gambe e allora ha realizzato quando mi presentarono a dare il johnston che il fondatore dell'axis durante uno di qualche anno fa lui mi mi riconobbe e disse che doveva assolutamente seguirlo eh nella nella fabbrica finito il nam perché non è tanto distante dal nam e così andò siamo stati a pranzo insieme mi ha fatto visitare questa mitica fabbrica della axis pedals e da sopra uno scaffale io ho detto ma tu stai lavorando sì sì eccolo qua tac ha preso un un prototipo e ho detto me ne devi fare uno anche a me adesso e lui ha detto tieni te lo regalo ed è quello che sta qui dietro lui mi ha regalato la l'idea che io gli ho gli ho involontariamente regalato stato uno scambio involontario ovviamente uno strumento come quello costruito con macchine a controllo numerico è un calibro è precisissimo quindi io ho un feeling molto migliore rispetto a quello che avevo realizzato con i poveri mezzi quindi diciamo questa storia eh ha avuto un suo risvolto positivo almeno per quanto mi riguarda e poi il fatto che l'axis abbia ripreso una mia idea la dv abbia preso una mia idea insomma sì perché la dv ha fatto un kit basato sulle tue non tanto esigenze ma i tuoi spunti cosa rara se non erro no nel senso che hanno preso spunto da quella tua cassa cioè hanno fatto un kit compatto come si chiama io non mi ricordo se siamo a travel non so cosa comunque è un parte dalla gran cassa piatta e l'anno dopo hanno fatto tutto tutto il set un po quello che poi la perla avrebbe richiamato con un set similare e però diciamo tutto parte dalla gran cassa piatta questa io l'ho fatta perché doveva rispondere a delle mie precise esigenze perché non suonando più la cassa a pedale almeno su questo strumento qui avevo bisogno di una possibilità di disporre eh il la 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 chiamiamola la gran cassa io la la considero una gran cassa eh in una posizione tale dove sarebbe stato agile l'utilizzo tra charleston casse rullante per incastri vari quindi eh poi una una ricerca ulteriore che io ho fatto e qui veramente ringrazio tantissimo i miei sponsor che sono veramente generosi e con me ho potuto eh lavorare tantissimo sull'equilibrio dinamico del mio set cioè nel mio set non c'è una voce che prevale o una che sta sotto cioè ho lavorato tantissimo affinché senza microfoni in un locale cosa che ho fatto diverse volte il set si potesse ascoltare tranquillamente in maniera molto bilanciata e questo è stato un ulteriore lavoro che ho dovuto fare quindi parli anche di piatti proprio solo sui tutto 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 i piatti che sono Mainol sono veramente un orgogliosissimo endorser Mainol da dieci anni ormai ehm la Mainol mi ha permesso di 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 sperimentare tantissimo con i piatti e piatti di altissima qualità e e e quindi eh i piatti che stanno qui dentro sono tutti perfettamente bilanciati timbricamente e dinamicamente ehm è un è un set fantastico cioè io quando mi siedo la mattina studio sul mio strumento mi siedo e mi sento già ah che bello cioè oggi ti capisco ti capisco ti capisco e con con strumenti che ne so il mio rullante eh collectors perché poi quando ho avuto la fortuna di iniziare una collaborazione con la dv e mi hanno dato questo super contratto gold platinum una cosa del genere insomma l'ho firmato sulla scrivania del presidente eh una cosa io volevo perché era quel periodo non ero soddisfatto dei miei rullanti volevo il top del top per quanto riguardava i rullanti non c'è problema e e quindi ho dei rullanti dv che sono fantastici e che mi danno veramente un timbro pieno rotondo caldo bello cioè poi vabbè io lo accordo come piace a me il suono viene fuori tranquillamente quando hai strumenti di grandissima qualità è facile accordarli suonarli e sentirli certo godi è inutile è inutile senti ti giro qualche domanda e marco così facciamo un po di allora stefano ti chiede intanto fai complimenti all'intervista mi fa piacere stefano che ti piaccia volevo chiedere a marco che consiglio può dare per ottenere un'ottima stabilità sullo sgabello quando tutti e due i piedi sono sollevati da terra sui pedali ok per esempio non lo so se stefano intende magari lui è uno che suona doppia cassa se intende quando hai entrambi i talloni alzati o se fai delle cose all'unisono no ma ho capito perché la problematica abbastanza ricorrente per il doppio pedale cioè il discorso è che quando tu dicono è ma il doppio pedale è difficile il doppio del dell'approccio a cassa singola io mi permetto di dire che è difficile più del doppio perché tu per è vero che hai due due piedi che lavorano al posto di uno ma non hai più l'ancoraggio del piede sinistro sul charleston che ti dà stabilità no tu puoi anche suonare il piede destro parlo per i destrozzi piede destro quasi fluttuando sul pedale ma hai il piede sinistro che ti dà stabilità poi sull'asse sgabello piede sinistro tu hai appunto ma quando si parla di doppio pedale tu devi scaricare uno il peso sullo sgabello quindi devi avere uno sgabello di qualità non puoi comprare un doppio pedale da 1200 euro e poi avere lo sgabello mini quindi è importante avere uno sgabello top perché quello intanto ti dà la qualità e io l'ho trovato soltanto in gli sgabelli a quattro piedi questo questa caratteristica di stabilità assoluta e che è quello che utilizzo sul set principale e dopo di che devi imparare a stare in equilibrio sullo strumento e lavorare io ne parlo nel libro di questo argomento perché ovviamente un argomento cioè è una delle difficoltà nel suono del pedale sollevando il peso dal pedale e scaricando il peso sui pedali vedete che cosa succede a livello di equilibrio quando passi da questi due approcci ovvio che quando vai sul doppio pedale hai un senso di 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 perdita del dell'equilibrio della stabilità dovuto al fatto che ok adesso il peso dove lo scarico lo scarico più sullo sgabello sui sui pedali sulle note ma poi la dinamica delle note come funziona insomma ci sono anche degli aspetti legati diciamo alla posizione l'altezza dello sgabello che che vanno considerati secondo te quando vuoi usare questi sistemi qua ne abbiamo parlato l'altro giorno con roberto gualdi no che diceva quando ero ragazzo andava a rompere le balle al batterista degli stadio giovanni pezzoli dicevo senti ma tu come che andava lì col block notes che roberto è un curioso un curioso come tutti noi del resto e diceva ma tu come lo tieni nello sgabello ma tienilo come vuoi dopo l'intervista ne parlava dopo l'intervista e robine parlavano diceva no però no cioè siamo stati anche un bel tre quattro minuti a parlarne dell'altezza dello sgabello tu hai una preferenza per il importante è importantissimo ma allora il discorso è questo ognuno plasma tutto il suo percorso in base all'obiettivo o almeno dovrebbe essere così se tu vuoi fare un utilizzo completo delle possibilità espressive che hai negli arti inferiori non puoi lavorare solo di gamba o solo di caviglia cioè devi lavorare in maniera molto molto elaborata per lavorare in maniera molto elaborata non puoi stare troppo alto perché se tu stai troppo alto è come se chiudessi con lucchetto le articolazioni dal ginocchio in giù la caviglia è proprio serrata non puoi più pretendere nulla a livello di scioltezza per cui quello che consiglio io è un angolo leggermente più aperto di 90 gradi ok maniera tale che tu hai il bacino sopra il ginocchio per dire gli adduttori che non vengono troppo sollecitati non troppo sovraccaricati perché non devono sollevare un arto per ogni colpo e hai la caviglia sufficientemente alleggerita perché non stai troppo in verticale alla porta noi per intenderci sì in maniera tale da non scaricare troppo peso su sulla punta dei piedi e insomma è un po un equilibrio in generale un po uno stare in mezzo per per prendere i vantaggi di una posizione e di un'altra e luca ti chiede anche se c'è un allenamento fisico per le gambe che migliora la situazione sulla batteria tu credi nello diciamo lo sport abbinato alla batteria o comunque hai dovuto fare dell'esercizio per riuscire a suonare quello che suoni o basta stare sulla batteria io le cose più piene che sono riuscito a suonare a livello di dinamica ma non quando dico dinamica non dico soltanto a volumi alti anche a bassi volumi volumi più contenuti e a alte velocità quindi il controllo della dinamica a varie velocità e la sensazione che io ho avuto di di massimo controllo non è stato quando stavo veramente strong perché mi sentivo un vitello ma quando avevo una grandissima elasticità negli arti che mi permettono veramente di di assecondare i colpi guidare il pedale dargli quasi quasi una spinta al pedale non stare lì a combattere con lo strumento quello è lo stato mentale fisico ideale per lavorare a qualsiasi velocità non esageriamo qualsiasi velocità e qualsiasi escursione dinamica appena metti un po di rigidità dentro perdi sia no forse la forza no però è una forza un po più martellante non è un controllo di dinamica sono due cose un po differenti quindi morbidezza flessibilità lavorare molto sulla flessibilità allora qua abbiamo doppio colpo che con questo nome non potevano leggere il suo messaggio e dice come si chiama il tuo libro per pedale singolo studi sulla tecnica del pedale fammi rivedere se ce l'hai lì fallo rivedere così chi è arrivato adesso ce l'hai tu lo vendi tu dal tuo store diciamo tu personalmente quindi chi vuole questo libro sulla tecnica dai pedale singolo che vale anche per i doppiocassisti naturalmente va su facebook sul tuo facebook che è questo che me lo sono salvato ok così abbiamo abbiamo fatto vedere anche questa cosa che è interessante ma me lo devi mandare che io sono sono curioso anche perché sulla tecnica sul pedale no ce ne sono tanti in verità è da come si chiama colin bailey mi pare no c'è anche quello che ha fatto fanno scusa se ti interrompo io ho conosciuto colin bailey perché don lombardi il presidente della dv cioè tu quando stai in dv in drum channel tu basta che ci stai mezz'ora e già conosciuto tu e passano e ne passano tanti se sei fortunato esce anche vinni con l'aiuto però devi stare nel giorno quello giusto e e uno di questi giorni in cui io stavo lì c'era colin bailey e don lombardi che è un mio fan accanito sul discorso pedali praticamente ha detto colin vieni qua ti faccio conoscere marco e annetta che del pedale insomma io ovviamente conoscevo colin beli e lui ci sono anche delle foto che testimoniano questa cosa stavamo nello studio di terribozio vicino alla batteria terribozio con dei pad a pedali a terra ha detto vai fammi vedere un po e io gli ho fatto vedere un po di cose un po come avvenne con lang e poi venne don lombardi disse allora che te ne pare e colin bailey disse io credevo di essere io l'uomo pedale insomma ci siamo confrontati su alcuni approcci lui su alcune cose mie su alcune intuizioni mie era rimasto spiazzato ovvio che detta da uno che ha lavorato tantissimo sulla tecnica del pedale è una cosa che inorgoglisce e che ti dà entusiasmo cioè nel senso un conto è lavorare sulle proprie idee e renderti conto un giorno che hai sbagliato e che hai hai buttato veramente tutto il tuo tempo alle urtiche per non dire di peggio e un conto invece a voi avere ogni tanto queste queste diciamo queste manifestazioni di stima che ci vogliono la vita è dura insomma certo senti ancora un paio di domande poi ti lascio che abbiamo già sforato un'oretta Nicola ti chiede se con la tua tecnica i colpi sulla pelle arrivano tutti con lo stesso volume o è normale che siano diversi probabilmente intende i colpi non so colpi dopi non so se immagino che potrai gestirla anche questa cosa qua in base alle tue preferenze perché se non ho capito male tu hai sviluppato tutta una serie di movimenti che ti hanno dato in un certo senso la libertà no con la cassa sì sì guarda allora di base se a secondi il mio movimento avrai una specie di onda che a me non dispiace perché sporca un pochettino quell'assalto di colpi tutti uguali ma quando voglio i colpi tutti uguali mi imposto in un certo modo e tiro fuori i colpi tutti uguali ma perché questo perché vabbè non lo tiro fuori un'altra volta il libro però nel libro c'è una sezione c'è una sezione in cui si parla di dinamica e di accenti legata ai pedali se tu sviluppi queste capacità di dinamica e di accenti gioco forza ti troverai a a controllare meglio la costanza dei colpi io ho suonato dei rulli a colpi singoli che ogni volta quando voglio farmi uscire alla grimuccia me li vado a riascoltare e i rulli a colpi singoli più belli che abbia mai fatto sono state una al teatro brancaccio di roma col lucchini dei con tutta la ciurma dei batteristi no andrummeria e compagnia bella e su youtube questo video lì forse ho fatto il rullo a uno più inumano che abbia mai suonato e lì è partito un applauso di tutto il teatro perché insomma poi erano tempi stiamo parlando di 15 anni fa in cui quelle cose non non esistì cioè non non le faceva nessuno poi non c'era youtube quindi c'era youtube come oggi e quelle cose là 15 ma io infatti veni fermato nel teatro dopo che avevo suonato quella roba lì veni fermato da un batterista famosissimo italiano che mi disse aspetta come si chiamano quei pedali scozzesi aiutemi a dire pedali scozzesi sì quelli che hanno il doppio battente no il dualist bravo bravo il dualist ma tu usi il dualist perché non concepiva assolutamente io gli dissi no io uso lo stesso pedale che usi tu solo che io non sono endorser e praticamente rimase questo batterista fortissimo rimase eh e ho dato diversi indizi per capire chi fosse che abbiamo capito e praticamente rimase scioccato perché lui tecnicissimo però non era pronto ad ascoltare quella roba da batterista che era venuto dalla profondità della provincia di Frosinone capisci io ho fatto il colpo un rullo a uno che quando lo risento è un colpo uguale uno uguale all'altro ecco se studi nel modo giusto riesci anche avere questa capacità espressiva insomma allora guarda che cosa ho preparato intanto visto che mi dicono Dado metti il titolo di sto libro perché si vede che se lo stanno dimenticando che vedi mi dicono senti ma allora mettici il titolo di sto libro Marco poi lo metto nelle note anche insomma perché è interessante questa cosa del pedale come ti dicevo molti chiedono io a questo gruppo Facebook molto grande ci stanno guardando proprio da lì e spessissimo arrivano domande sulla tecnica dei pedali io ho studiato pedal control che ha fatto coautore Famularo non mi è servito tanto perché ci sono tanti esercizi senza il pedale proprio per la meccanica dei movimenti per il relax molto interessante però è una cosa che mi interessa molto quindi voglio vedere il tuo e qua c'è Leonardo che dice fantastica clinica Firenze diversi anni or sono ancora il suo dvd autografato ma hai fatto anche il dvd è un altro lavoro didattico ancora che è ancora disponibile si è ancora disponibile sono rimaste una quindicina di copie quindi prendetele ragazzi ho trovato un cartone l'altro giorno qualche mese fa ho trovato un cartone ero convinto che fossero esauriti ho trovato un cartone sono usciti queste una quindicina di dvd e sono in italiano in inglese è in italiano in inglese ci sono i sottotitoli in inglese quindi è la versione tipo video del libro che hai fatto o una cosa no 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 perché storicamente e allora c'è una sezione dedicata allo studio del pedale dove in in pillole dico le cose che dico anche qui dentro però è più legato al progetto orchestrale del mio concetto orchestrale su sull'interpretazione di composizioni percussive e non c'è il concetto che alla base di questo strumento non la tecnica pura del pedale io nel mio libro cerco di essere neutro al cento per cento non parlo di metal o funk insomma certo 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 ti faccio ancora due domande la prima è questa eduardo chiede adesso qua entriamo in un mondo dove non ci capisco una mazza perché il pedale direct drive è sconsigliato per suonare i sedicesimi con la tecnica tacco punta alla jojo mayer perché è sconsigliato effettivamente sì ma cos'è questo direct drive cioè cosa significa direct drive è quello che c'ha il collegamento della piastra con l'asse rodanzo insomma del battente con il pezzo anziché esso una catena flessibile ho capito tutto le tutte le marche ormai hanno il loro direct drive la tama era l'ultima adesso è arrivata anche lei per le con insomma ok ho capito ho capito capito perché è difficile perché io anche ho usato per un anno e mezzo gli axis tanti anni fa per capire che non sarebbe mai cioè l'ho usato per capire che non è quello il mio pedale perché il direct drive assomiglia al a qualsiasi altro tipo di trazione nel momento in cui vai giù perché si tratta di andare giù qualsiasi eh diciamo eh pezzo che trasmette il movimento porta giù il battente la differenza sostanziale non è quando vai giù ma quando torna su quando torna su mentre i sui pedali a a trazione a cinghia o a a fascetta di nylon eh praticamente si stacca per un attimo la coordinazione tra forza che imprimi alla punta alla al battente e il movimento della piastra nel direct drive invece è è un tutt'uno per cui tu dai il direct drive quando tu dai un colpetto il pedale sta venticinque io cronometra i venticinque secondi in movimento sai che cosa significa questo che quando tu metti in movimento un direct drive per fermarlo o soltanto per cambiare struttura passando da di tersina dei sedicesimi o viceversa da ottavi tu devi imprimere ulteriore forza per cambiare quel quell'inerzia capisci per cambiare quell'inerzia per chi va bene quel tipo di pedale il tipo di pedale va benissimo per quelli che fanno speed metal death metal che nel momento in cui tu sei partito il pedale viaggia e a te basta una piccola vibrazione per tenerlo su quelle strutture solide o il avete capito no quando tu fai un blast beat la struttura rimane quella tu non fai le cose sofisticate alla jojo mayor dove devi cambiare in continuazione registro ma infatti ti dico un aneddoto non per screditare l'axis ci mancherebbe però ho avuto occasione di provarlo una volta che è venuto un ragazzo nel mio studio a registrare e lui faceva i blast beat no e monta sta doppia cassa con gli axis io dico a che figata finalmente provo gli axis vabbè io usavo un dv 9000 e cioè quindi usavo un signor pedale gli axis dai proviamo oh ma sai che se mi facevi suonare back in black non ci riuscivo cioè ti giuro di una scomodità magari era anche regolato in un modo ma a me non piace il fine quella risposta quella risposta immediata che ti dà uno schiaffo sotto il piede infatti molti che usano a un certo livello i direct drive hai visto dove mettono i piedi mettono quasi vicino al tacco no e te credo perché così non prendono lo schiaffo sotto il piede oppure ci devi suonare veramente due semi minime ogni tanto e allora non ti fai male ma io non potrei mai suonare le mie cose con quel tipo di pedale mai mai non è che si sconsiglia in generale è solo per capire a chi non a caso non a caso tantissimi batteristi di un certo tipo di genere musicale usano proprio questi marchi con quel tipo di pedale apposta quindi voglio dire è come dire vado vado in centro con la ferrari no vai con la punto in centro ma ecco la golf non ci vai con la con la ferrari allora marco è arrivato il momento dell'ultima domanda io a te non l'ho ancora fatta perché è la prima volta che faccio questa chiacchierata questa intervista però la faccio tutti i miei intervistati ed è questa a te ti dovrei chiedere che pedale ti porti ma invece la domanda è se domani vai a fare un disco con terri bozio il disco della vita e puoi portare un solo rullante che rullante ti porti devi registrare tutto il disco con un solo rullante cosa ti ho visto caro corrado visto l'imbarazzo di tanti colleghi che non sapevano cosa rispondere evidentemente perché ci hanno 30 rullanti siccome io ce l'ho pochissimi è facile no in realtà è facile anche perché il rullante che mi porterei è il rullante che qualche anno fa prima di diventare tv lo stavo quasi per comprare costava mille euro ed è il super solid 14 per 5 e mezzo ed è un rullante fantastico quando io avevo capito che diventavo endorser tv don lombardi pianto riso molti dicono a bella si sapeva perché terri bozio ti avrebbe aiutato terri bozio è vero mi ha aiutato cioè ha cercato di aiutarmi ma già nel 2009 ma non ha potuto fare nulla perché se fossi dipeso da terri bozio sarei diventato tv da subito invece per diventare tv con loro devi passare è una trafila molto più lunga e dove devi dimostrare di essere un cavallo sulla lunga distanza non con l'esplua ad ogni modo tornando a rullante io diventai tv firmai e pochi giorni prima di andar via di tornare in italia don lombardi disse mi piacerebbe che tu tornassi in italia con un rullante cioè con scegli vai nello showroom e scegli di un rullante io andai nello showroom provai tantissimi rullanti ma io già avevo già sapevo quale dovevo prendere ed era il super solid laccato solo che me lo misero nella custodia ultra deluxe che sembra la custodia di un di un rullante da 20 praticamente e nel momento in cui tu ti metti un rullante che pesa 15 chili dentro una custodia grossa così io che ho dovuto fare avevo il mio bagaglio per stare due settimane a los angeles per portarmi il rullante mi sono messo soltanto dentro una tasca spazzolino e dentifricio e filo interdentale e sono tornato in italia solo con un rullante che volevano farmi imbarcare ma sono riuscito a convincerli a tenerlo assieme a me sull'aereo e io mi sono portato questo rullante non avevo un ricambio di niente avevo solo un rullante con me e quella ed è il super solid 14 per 5 e mezzo è quello che monto lì sopra che è un rullante fantastico e tra l'altro john 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 good che è il vicepresidente tv mi spiegò la storia di quel rullante è una storia stupenda e lui ha speso mezza giornata invitando me la mia compagna a un a un tour guidato della tv e lui era la qui da john good poi ci ha portato al ristorante dove lui diceva che che c'ha quel tavolo da mille anni a sta parte e ci ha spiegato ogni piccolo dettaglio sulla costruzione delle tv collectors che lui segue passo passo e questa storia del 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 super solid è un qualcosa che ci ha lasciato a bocca aperta la tv ha fatto tantissimi rullanti tantissimi pezzi unici ma io credo che il super solid oggi ancora rimanga la punta di diamante di tutta una serie di rullanti fantastici quindi quello è il mio rullante si vede si vede che si è innamorato di questa cosa si vede che allora lasciami dire i cuoricini che riescono dagli occhi corrado ci mancherebbe il rapporto di endorsement con le case in generale tutti vorrebbero avere la gas o anche vorrei avere il metano alla macchina sponsorizzato no spendi meno soldi a fine mese quindi chiunque potrebbe avere un rapporto endorsement quando fai un lavoro coerente e serio sullo strumento non puoi piegarti a determinate dinamiche provinciali nazionali di endorsement prenditi questo e prenditi anche quello e prenditi quello perché io distribuisco questo ma no principalmente può succedere perché ti piacciono quei marchi veramente ma quello che dico io è quello di scegliere dei marchi perché ti piacciono veramente esposi la causa la filosofia della casa madre non del distributore della casa madre e allora veramente poi si può creare qualcosa di veramente costruttivo dura duro perché non poi lì non succede che cambia un distributore tu perdi un strumento che amavi ok questo sarebbe traumatico per qualsiasi musicista credo e io ringrazio tantissimo tutti i miei sponsor che sono dv pdp la rimpercussion removic firte e minor che veramente mi supportano ormai da tanti anni e mi permettono mi permettono di portare avanti questa cosa assurda questa ricerca assurda fuori da ogni tipo di di cognizione però è la mia strada è quella che ho scelto di percorrere già ormai da parecchi anni e mi ha dato tante soddisfazioni e mi permette di svegliarmi la mattina contento e non grande se un grande marco se un grande guarda ammiro veramente molto quello che fai voglio ricordare ancora una volta per finire il tuo libro studi sulla tecnica del pedale e sono saltati fuori anche 15 dvd da un cartone quindi ragazzi i primi 15 se li possono accaparrare questo è il tuo facebook dove chi vuole può contattarti o può andare a vedere le cose che fai ho visto che anche delle cliniche a breve dove farai delle cliniche su zoom quindi sono rimaste diverse domande su tecniche del pedale cose che insomma molto molto dettagliate semmai invito a non penso che ti spiacerà se ti scrivono su mess eccetera eccetera vogliamo partecipare comodissimo ecco se io non leggo più messager ragazzi lo dico l'ho già detto qualche giorno fa non riesco più a seguire messager quindi scrivetemi solo un email perché non leggo più invece marco legge sommesso in giro ancora quindi senti io ti lascio andare ti ringrazio molto ci vediamo presto di sicuro rifaremo qualcosa insieme chissà magari un bella una bella ospitata con qualche altro con un thomas lang insieme a te sarebbe una figata dai magari ci proviamo senti marco grazie davvero io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi tanti anche stasera la diretta rimane da domani ci sarà la timeline con tutti gli argomenti tra qualche giorno va anche in podcast audio così se te la vuoi ascoltare in macchina se ci lasciano andare in giro ce l'ascoltiamo marco un abbraccione grazie mille grazie a te grazie a voi ciao ciao marco grazie